Ciao, benvenuta in questo video. Oggi andiamo a riordinare il nostro cassetto dei calzini. Mi auguro che anche tu sia motivata quanto me nel voler riordinare piano piano a piccoli passi alcune piccole aree della tua casa per iniziare a fare in mente locale delle cose che hai, di dove sono, quante ne hai e anche dello stato, no? Che possono essere, quegli spazi possono essere più ordinati, più organizzati, più funzionali, più pratici. Insomma, solo benefici. Ascoltandomi e seguendomi puoi solo che migliorare la tua casa e la tua vita di conseguenza, ovviamente. Oggi parliamo di calzini. Calzini per il tuo cassetto? Ne hai tanti, sono sicura di sì. Non ti sto qui a fare preamboli riguardo a fase 1, fase 2, fase 3. I miei percorsi di riguardi ogni strutturo in un certo modo, però questi giorni vogliono essere proprio deutici ad aiutarti un po' a conoscere il disordine, un po' a capire che ci possiamo assolutamente sbarazzare il disordine a piccoli passi senza dover per forza agire sul fuori tutto, per la quale appunto io sono assolutamente contro. Cioè, tirare fuori un armadio intero e poi doverlo riordinare tutto in una volta. Ma è quello di rendere l'ordine parte integrante della tua vita, in modo tale che veramente diventi uno stile di vita e non un trauma che ricorderai per sempre e che non ti porterà a fare ordine a lungo termine. Quindi, oggi siamo al video 7, quindi sono la settima tip delle 14 più una che ho preparato per te. Guarda quelle precedenti se te le sei perse. E segui le prossime per continuare il tuo percorso propedeutico ad iniziare a fare ordine per davvero ed eliminare il disordine a volte per tutte. Sono sicura che con i benefici che inizierai a provare in questi giorni ti verrà voglia di volerli provare per sempre e di non dover più stare tutti i giorni, tutte le settimane a rifare sempre le stesse cose. Fare ordine in modo duro significa che lo fai una volta e dura per tutta la vita. Poi si parla solo di mantenimento. Il mantenimento, beh, se vorrai fare ordine scoprirai che cos'è. Lo scoprirai insieme a me, nei miei percorsi. Ti invito all'evento perché li ripresenterò, presenterò i miei metodi. Metodi esclusione, metodi SAR che sono protocolli creati da me e che stanno aiutando migliaia di persone a fare ordine, a ottenere risultati concreti, immediati, ma duraturi nel tempo. Andiamo, dopo questa piccola introduzione, che sicuramente ti ha incuriosita e motivata quindi a mettere in atto quello che ti dirò, andiamo a parlare di calzini. Non vi parlo di mentalità, non vi parlo di cernita, ma di ottimizzazione degli spazi in questo caso, perché già porta un buon effetto, che sia estetico, che funzionale, che pratico ed è immediato. Ci metterete pochi minuti. Semplicemente apri il tuo cassetto, tira fuori i calzini, non tutti, cioè non svuotare il cassetto così, non è fuori tutto. Aboliscilo. È un errore. madornale, ok? Che maricondo è importato nelle nostre menti, ma in realtà è sbagliato. Quindi ti chiedo di prendere il tuo cassetto, lo tiri fuori, ti metti sul letto, sul tavolo, sul divano, e piano piano tiri fuori i calzini e poi pian piano gli appai. Quindi trovi un calzino viola, poi troverai uno bianco, uno nero, li metti, e poi quando li trovi quello viola, lo appai, ok? Con l'altro. E così fai con tutti gli altri, giochi un po' al memory, così io dico spesso. Procedi con il memory. Una volta che hai fatto questo piccolo lavoro, velocissimo, che sarà anche divertente, sono sicura, semplicemente abbiamo il cassetto vuoto, quello che dovremmo fare sarà poi riporre i calzini. Ognuno di noi, spesso, cioè io no, però io ai tempi quando ero disordinata li lanciavo dentro e c'era la montagna, quindi io pescavo a caso e cercavo di trovare a fortuna la coppia. Mi è capitato ovviamente di mettere calzini diversi, simili, ma diversi. Da quando ho fatto ordine non succede più, cioè mi devo, devo scegliere io di volerli mettere diversi, altrimenti è impossibile. Quello che ti chiedo di fare è semplicemente prendi il tuo paio di calzini, lo pieghi a metà e riponi, fai finta questo sul tuo cassetto, i calzini uno davanti all'altro, così. Se il cassetto è così, sarà l'acqua. E procedi così, ovviamente se il calzino è un po' più grande cercherai di, lo piegherai a tre, ok? Cerca di sfruttare l'altezza, ok? Del tuo cassetto, così che potranno starcene il più possibile. E vedrai che già attuando questa tip mi ringrazierai enormemente, come ho detto, sono dei consigli veloci, immediati, che puoi fare veramente appena guardi questo video. Però questa è la più facile da mettere in atto. Molte di voi magari già la conoscono, altre no, però io te l'ho mostrata perché è quella un po' immediata che dà già delle piccole soddisfazioni, però mi raccomando, lo scopo di questo esercizio non è pensare che tu ora sei ordinata, perché non lo sei, perché il lavoro viene fatto da dentro di noi, la mentalità. La casa è lo specchio di chi siamo, un cassetto ordinato è una casa disordinata, non rendete una persona ordinata. L'ordine bisogna lavorare da dentro, quando l'ordine è dentro di noi automaticamente si diffonderà attorno a noi, se il disordine è dentro di noi automaticamente si diffonderà anche attorno a noi. La casa è lo specchio della nostra vita, la casa è lo specchio di chi siamo dentro di noi. e quindi c'è un grande lavoro che bisogna fare sull'identità, su chi siamo, su cosa è importante per noi, saper scegliere e scegliersi, mettersi al primo posto, imparare a dire no. L'ordine, la filosofia che io insegno, cambia e ci rende delle persone migliori, fa emergere meglio di noi, ci permette di esprimere il nostro vero potenziale. non è un caso che tutte le mie clienti le ho sempre chiamate le unisse, perché è proprio questo, si parte che si è un po' così, un po' autostima un po' bassa, non so, ci si trascura, si pensa che abbiamo, che siamo pieni di limiti, no? E poi si finisce il percorso invece che si ha solo voglia di scegliere, scegliersi, vivere al massimo la propria vita e smettere di limitarsi e ovviamente credere molto di più in se stessa e nelle proprie potenzialità, perché finalmente le vedi. Il disordine è come in casa, no? Non ci permette di vedere bene, lucidamente la nostra casa, i nostri spazi, tanto uguale il caos dentro di noi, non ci permette di vedere lucidamente chi siamo e oscura anche il bello, la parte più bella di noi. Quindi, al mio evento tratteremo proprio queste tematiche, quindi l'impatto che il disordine porta nella nostra casa, ma soprattutto nella nostra vita a livello personale, a livello di tutti i settori della nostra vita che riguardano la salute, il lavoro, la famiglia, l'amore, l'aspetto spirituale, la salute, l'aspetto economico finanziario, la famiglia, avremo modo proprio di vederli insieme e quindi l'impatto che porta a livello psicologico, emotivo, su di noi ogni singolo giorno. Se hai da tanti anni che sei disordinata, sappi che hai un grande peso che porti tutti i giorni con te. Io ti saluto, ti auguro un buon riordino, fammi sapere come va, condividetemi i vostri passi avanti, sarò molto curiosa di vederli, noi ci vediamo domani con il prossimo consiglio e seguimi, nel caso ricordati, guarda quelli precedenti per mettiti a pari perché è proprio ideotico al tuo, ad iniziare veramente a fare ordine perché il 2024 è l'anno in cui tu hai il tuo grande riordino con me, sì, sono sicura che sarai prai scegliere la tua guida. Un saluto da Albero Mito.